Concorso fotografico antiprostituzione. È sembrata una provocazione la proposta del sindaco di Francavilla Antonio Luciani, postata su Facebook che invitava i francavillesi a fotografare le automobili e le persone intente a contrattare con le prostitute per poi pubblicare in tutta la città i manifesti 6x3, niente male, con la scritta Lui è andato a Francavilla per andare con le prostitute. Ad un'intervista più approfondita però il primo cittadino quotidianamente impegnato di concerto con i carabinieri nella lotta contro la prostituzione rincara la dose confermando la volontà di fare quanto proposto. Luciani già aveva deliberato un'ordinanza per elevare multe ai clienti che si fermavano sul bordo della strada a colloquiare con le signorine ma nonostante il presidio e decine di multe salate il fenomeno non si è arrestato. Anzi, sentite Sindaco Luciani 6x3 ma è una provocazione? No, no, è un concorso fotografico. Ho invitato i miei cittadini a fotografare i clienti delle prostitute, a mandarmi le foto in forma anonima, poi ci penserò io a fare una bella stampa di manifesti 6x3 e a metterli per tutta la città con la scritta. Ovviamente che questo signore, questa macchina è stato visto in presenza di prostitute. La mia è più che una provocazione e, come ho detto, un vero e proprio concorso, soprattutto è un modo di dire basta a questa ipocrisia che c'è su questo tema, lo continuiamo a ripetere periodicamente. L'Italia una volta era considerata la culla del diritto, oggi mi dispiace dire che non è più così perché non riesco a capire quale sia la ragione per il legislatore di non intervenire sul tema. Qui bisogna levare l'ipocrisia, o si riaprono le case chiuse, quindi queste signorine iniziano a pagare tasse, vengono controllate dal punto di vista sanitario e si leva tutto questo enorme racket dalle mani di chi invece si sta arricchendo in maniera assoluta, come accadeva ai tempi del proibizionismo in America. Si continua ad avere questa forma di ipocrisia che in verità fa arricchire la malavita. Quindi o lo Stato interviene in questo senso oppure, in alternativa, vieta completamente la prostituzione. Oggi pensate che noi fermiamo una prostituta, le chiediamo gentilmente cosa sta facendo, lei ci dice molto gentilmente che si sta prostituendo ma questo non è reato e non le possiamo fare nulla. Quindi vedete che forma di ipocrisia che c'è sul tema. La proposta già sta facendo discutere soprattutto sulla rete. Esporre al pubblico giudizio targhe e volti dei clienti e delle prostitute comporterebbe inevitabili problemi di violazione della privacy. Il concorso comunque è aperto. Il premio per chi vince il concorso? Ma sì, lo daremo. Io istituirò un premio, avevo pensato a un premio in denaro di 500 euro, ora mi sto attrezzando per stabilire bene i termini, ma chi farà la più bella fotografia, più visibile con il cliente proprio vicino alla prostituta sicuramente verrà premiato con cerimonia pubblica. Rispetto della privacy? Ma rispetto della privacy, questa è una cosa che mi fa sorridere perché ci preoccupiamo della privacy del cliente della prostituta e non ci preoccupiamo del fatto che mia figlia di 11 anni può andare a spasso e vedere quella scena. No, io mi preoccupo più delle cose importanti e non dalla privacy dei clienti e delle prostitute. Sei per tre offerti dal comune? Offerti dal comune? Ma forse io direi più che dal comune, io ho intenzione di offrirli personalmente con i miei fondi personali.